Ciao cari amici del progetto Rusketius, oggi vediamo come si realizza un videogioco per poter realizzare un videogioco con Unreal Engine che stiamo vedendo adesso si deve scaricare il motore di gioco che sarebbe questo qua come si fa? si fa su versione motore, clicca più potete scaricare le varie versioni che ci sono come vedete io ho le ultime due e vedremo come si avvia il motore dell'appenultimo ecco che si sta avviando, sta al 50% intanto che si avvia ritorniamo ad Unreal Engine un attimo che lo riapriamo allora c'è questa parte relativa a chi vuole imparare la grafica, come sviluppare la programmazione e vari trucchi per realizzare un buon videogioco allora qui ci sono i vari tutorial, c'è la documentazione, il tutorial e il video la community ha messo a disposizione della documentazione qui ci sono varie sessioni per iniziare a vedere come sono composti i videogame come questa, iniziare con Unreal Engine 4 come inserire gli oggetti all'interno delle grafiche come sviluppare ad esempio una scena un livello come vedete come iniziare a programmare questa ccpp ma può essere sviluppata anche con blueprint anche se ccpp è molto più veloce rispetto a blueprint diciamo che ho utilizzato molto per creare delle componenti in blueprint ma le vedremo andando avanti poi come vedete ci sono varie sessioni tutte queste componenti che potete aggiungere insieme alle componenti graduite del market che sono qui un attimo si sta aprendo allora qui ci sono alcune sessioni gratuite non c'è bisogno di mettere le cose a pagamento subito insomma per imparare questi sono le persone di paragon che era un gioco che stava qui sopra andando su free ci sono vari componenti insomma che potete scaricare in serie all'interno del motore di gioco allora ritorniamo a questa parte allora dicevo ho avviato la penultima versione del gioco allora questa è una parte del Unreal Engine che si chiama Unreal Studio e viene utilizzato per ingegneri architetti ingegneri meccanici ed edili o architetti per sviluppare i loro progetti insomma poi qua ci sono tutte le componenti che si possono aggiungere o installare all'interno dei pacchetti di gioco o per lo sviluppo architetturale o meccanico come vi ho detto poc'anzi come vedete sono davvero tante alcuni si installano alcuni si aggiungono per vedere ad esempio che versione può girare qui ci sono andate sulla i e vedete che versione si può utilizzare ad esempio ci sono anche quelle desuete come questo qua memory game che è un po' fecchiotto vedete dice non è compatibile con la versione 4.2 cioè 4.21.2 ok e se ne stanno vari come vedete sono tantissime ok andiamo alla nostra versione allora ci dice che abbiamo già un progetto che si chiama caldera77 allora dicevo caldera77 per calderone metto tutto quello che voglio lì dentro e faccio gli esperimenti ok allora possiamo realizzare il nostro progetto con blueprints e come vedete ci stanno vari template allora questo è vuoto ci crea una piattaforma sulla quale possiamo realizzare il nostro giochino allora la piattaforma piccolina poi abbiamo i giochi in prima persona tipo sparatutto poi un gioco in volo tipo un astronave o un aereo che possiamo comandare dall'alto poi ci sono la realtà aumentata frequentemente mettete dei fogli di carta con dei disegni ed escono delle forme geometriche dei personaggi sul tavolo per esempio poi c'è multischermo i puzzle ambientali giochi che ruotano questo cosiddetto side scroller cioè sarebbe tipo quello del suo armario che va però questo è il 3D quello del suo armario in 2D che sarebbe questo tipo questo invece è il 3D ok poi c'è in terza persona poi visto dall'alto detta visuale isometrica stessa visuale solo che sarebbe una navicella che vola all'interno della scena poi ci sono i veicoli possiamo girare all'interno della nostra scena c'è la realtà virtuale possiamo utilizzare i visori VR poi con le manichette possiamo utilizzare all'interno della scena della realtà virtuale poi ci sono i veicoli avanzati ok per quanto concerne cppu invece diciamo i template sono ridotti rispetto a blueprints manca la realtà virtuale realtà aumentata multischermo eccetera questa sessione invece è la sessione relativa a Unreal Studio che è la parte relativa agli ingegneri e agli architetti vedete qua è la parte edile e qui è la parte meccanica ok ritorniamo alla parte cppu e veniamo alla sessione qui di sotto questo questo bottone ci dice se vogliamo utilizzare un computer o una console o altrimenti un cellulare o un tablet ciò cosa significa? che ci realizza una versione adatta per o per le console e il computer oppure per il cellulare e il tablet poi ci dice se vogliamo la qualità massima oppure la qualità un po' cioè quella base insomma che si può vedere la base poi dice se vogliamo delle componenti iniziali già per lavorare oppure vogliamo un progetto uomo qui sotto ci dice dove vogliamo salvare il nostro progetto allora visto che ci siamo mettiamo un progetto blueprints ehm facciamo terza persona ehm facciamo per computer qualità alta e mettiamo le componenti iniziali lo chiamiamo tutorial 001 tutorial 001 tutorial 001 facciamo crea che ci creerà il nostro progetto in blueprints ehm per la terza persona adesso ha chiuso il il motore di avvio perché deve aprire ehm il template che abbiamo ehm ordinato appunto come vedete 0% 39% sta lo sta aprendo in pratica dovremmo dovremmo riuscire a vederlo prima della fine del filmato cioè del nostro tutorial l'ho fatto in blueprints perché perché se l'avessi fatto in cppu si sarebbe aperto ehm ehm visual studio e per farlo funzionare bisognava compilare il progetto cosa significa compilare il progetto che sarebbe eh passato un sacco di tempo per compilarlo perché una volta eh compilato è velocissimo il progetto ma per compilarlo ci vuole tempo e siccome sono centocinquantamila file circa il progetto cioè vi dico che che dovete consumare molti giga per per utilizzare questi ehm questi progettini non sono banali insomma già due solo i due motori di di avvia di avvia l'engine pesano 92 giga punto 3 quindi sono grossissimi allora come vedete sta avviando ehm il nuovo progetto che si chiama tutorial 001 ehm sta al 71% come vedete qua qui c'è il nome del progetto e qui il motore che sta utilizzando ok abbiamo la nostra scena questo è il nostro motore che si è avviato ehm ci dà un messaggio se vogliamo dei plugin clicchiamo su un plugin questi sono i plugin all'interno del nostro progetto possiamo utilizzare per esempio intelligenza artificiale ehm fare delle analisi utilizzare progetto per android ehm utilizzare animazioni audio ehm eccetera eccetera ci sono un sacco di opzioni da inserire per esempio la fisica aspettate la fisica guardate ehm la programmazione vedete ok detto ciò per collaudare il nostro progetto facciamo freccetta play adesso all'interno della della schermata centrale possiamo utilizzare il nostro personaggio vedete può correre può saltare con uno spazio ehm come vedete come vedete nel template ci sono anche un po' oggetti già predefiniti qui allora facciamo esc perchè così esce la modalità gioco andiamo nella modalità edit qui ci sono le cartelle ok nella cartella c'è ehm personaggio 3d personaggio componenti iniziali ad esempio facciamo ad esempio una colonna la spostiamo la mettiamo qua quindi quando quando avvieremo dobbiamo salvare poi quando avvieremo il gioco come vedete ehm c'è la colonna inserita questi altri componenti che vedete adesso con la videocamera serve per visualizzare il personaggio da dietro poi le luci l'obbio del sole poi invece sono le varie componenti dell'atmosfera che c'è in cielo come vedete allora facciamo play non so se ecco è rimasto il palo come vedete perfetto ok possiamo ruotare con il mouse per vedere la componente che abbiamo inserito all'interno ok con questo è tutto vi saluto ehm se vi è piaciuto il tutorial lo potete iscrivervi al canale ehm mettere mi piace commentare ehm se volete imparare di più ehm ditelo così faccio altri tutorial ehm mettete tanti like ehm se ci volete finanziare ehm nella parte info del canale di youtube c'è ehm paypal o paypal come lo potete chiamare voi ehm poi c'è patreon quando che è un progetto cioè ci potete finanziare tramite patreon ehm che è sempre all'interno del canale youtube ehm 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 ehm